Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa splendida serata, una serata dedicata agli anni 50. Per chi non mi conosce sono Monica Picciafuoco, presidente dell'associazione Essere Felici e titolare del marchio Fata Eventi. Noi tra le tante cose ci occupiamo proprio di eventi, moda e spettacolo come quello che vedremo tra pochissimo, che vado subito a presentarvi. In passerella hanno sfilato i capi firmati Moda da amare di Marina di Montemarciano. Le acconciature curate dalla parrucchieria Sofia di Falconara Marittima. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Una passerella con uno degli ospiti della serata, l'associazione Quampulcra S con la rievocazione storica anni 50. I ballerini degli sugar swing. E poi ancora la batterina Rosalba Barattini. Ed infine un momento con l'attore regista Lorenzo Baldini. Un evento dedicato agli anni 50, firmato Essere Felici e Fate Eventi. www.esserefelici.it